Cristian, purtroppo si direbbe una sconfitta che pesa, pochi punti di scarto, però si è perso in casa. Oltretutto una sconfitta che costa la classifica da parte di questo Agliana che è stato piuttosto sorprendente stasera. Sì, peccato per la sconfitta, ma ci sono altre due partite che vanno affrontate con lo stesso piglio, comunque con l'intenzione di provare a vincere, ci aspetterà ora una partita giovedì contro Legnaia a Firenze, è difficile, e poi contro Castelfiorentino per vedere di riuscire a ganciare il secondo posto. Comunque voglio fare i complimenti ai miei compagni che ci hanno provato, che comunque ci sta a volte perdere una partita e spero che vada meglio la prossima partita. Il proseguimento nel playoff non è comunque compromesso, tutt'altro, ora l'importante è riprendersi al volo, e venendo a te come stai un po' che sei fuori, lo sappiamo tutti, c'è quella lesione lì che ti tiene ancora lì, in nastalina, e tu probabilmente non vedi l'ora di uscirne. Sì, anche perché, no, sto meglio, settimana prossima dovrei riniziare a dell'armi con il gruppo, quindi ora vediamo, ma sto molto meglio, quindi spero che sia giunta l'ora di tornare in campo.